Si chiude il mese di gennaio, siamo giovedì 31 gennaio 2019, bentornati a tutti su CiperTV. Oggi andremo a cercare una massima ripetizione di deadlift, seguita poi da Max Street Pull Up, da Max Extend Push Up e da 500 metri Roll 4x. Tutti i test quest'oggi. Ci vediamo domani? Ma certo, a domani con un altro VOD su CiperTV.